buongiorno eccoci qui oggi giornata un po ucciosa abbiamo la brioche che ha mangiato fino adesso e ora sta riposando poi abbiamo il piccolino che abbiamo mangiato la pappa quella la starter e invece babà che era andato qui alla ciotola della mamma guardate ci ha fatto perfino il buco e si era mangiato un po di mangiare per cui stiamo iniziando lo svezzamento fate vedere i musini bambi eccoli qua gli lecca gli lecca lo starter buono lo starter si piace anche a te di me piace anche molto secco ed eccola la bambina invece che sta dormendo proprio alla grande di una giornata molto uggiosa ma tanto stiamo qua il bel calduccio che loro hanno tutto il riscaldamento nella cassa parto tutto sotto e lì c'è il vet bed che è molto caldo di suo ecco alma alma c'ha una pazienza biblica veramente con loro e sono i tuoi ultimi cucciolotti almici un abbraccione a tutti buona giornata